Benvenuti alla nostra rubrica leggere liberi. Vi è mai successo di entrare in classe e di vedere, di capire, di percepire subito da uno sguardo, da una postura, dalla posizione che occupa nello spazio che un alunno o un'alunna ha qualcosa che non quadra, ha un problema, che qualcosa non va. Uno dei narratori di questa interessante storia a più voci, Le fedeltà invisibili di Delphine de Vigan, l'ha capito subito, è Hélène, una professoressa di scienze. Ho pensato che fosse un bambino maltrattato, l'ho pensato quasi subito, forse non i primi giorni, ma poco dopo l'inizio della scuola. Era qualcosa nel suo atteggiamento, nel suo sottrarsi allo sguardo, qualcosa che conosco, che conosco a memoria, un certo modo di mimetizzarsi, di rendersi trasparente. Ma con me non funziona, le botte le ho prese da bambina e i segni li ho nascosti a oltranza, perciò a me non la si fa. Si sviluppa da qui una storia, una storia che ha come protagonisti due alunni di Hélène, la nostra professoressa di scienze, e le loro rispettive famiglie. Troverete temi importanti, duri, quali ad esempio l'alcolismo, che si diffonde sempre di più tra i giovanissimi. O un altro tema, altrettanto forse ancora più oscuro e misterioso, quello degli odiatori del web. E Matisse a rubare i soldi a sua madre. Lei non sospetta niente. Lascia in giro la borsa, non controlla mai gli spiccioli. Matisse prende monete, mai banconote. Le preleva con prudenza, una o due per volta, mai di più. Per le bottigliette sono sufficienti, 5 euro il rum, la martinichese, 6 euro la vodka Poliakov. Vanno nella piccola drogheria in fondo alla strada, è più cara, ma il droghiere non fa domande. Domani, dopo la mensa, hanno un'ora buca. Se in corridoio non c'è nessuno, si intrufoleranno nel loro nascondiglio a bere il rum che hanno comprato ieri. Theo ha detto che sfasciava la testa, anche più della vodka. Si è puntato alla tempia una pistola immaginaria con due dita unite e ha fatto finta di sparare. Quindi, come vedete, tutti i temi di cui parliamo spesso oggi con i nostri alunni. Per cui questo libro, Le fedeltà invisibili di Delfino e De Vigan, ve lo consiglio caldamente. E mi raccomando, non dimenticate di venirci a trovare sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie.